ehi la ciao bella gente buonasera mamma mia il tex lezione umino giallo tonno insuperabile buonasera a tutti bentornati nel mio bennevis stasera come si può sentire un po di acqua scorre adesso poi puliscono anche la parte qui che mi rimasta l'addi in fondo già un po ci ho pulito anche se non toccherebbe a me ma se pulisce uguale ci mancherebbe poi non tocca a me tocca a qualcun altro quindi un po per uno un braccio a mamma allora qui uno spettacolo ha finito di sto facendo un video per fare un po un aggiornamento per tutti ha smesso poco fa di piovere il tempo va via via migliorando anche se c'è un neppione della madonna io sarò qua su stasera per controllare che sia tutto quarto a posto in versione ci manca solo dal piole poi siamo a posto bisogna farsi analizzato ogni tanto perché sennò appigliarsi troppo sul cielo non va bene ci vediamo qui venerdì che il rifugio è aperto buonasera a tutti e guardate che spettacolo anche con un tempo così il mio ben nevis il minaco santo è spettacolare buonanotte a tutti